Un interessante vertice della Confindustria al quale ha presenziato il Presidente della Confindustria Calabria, il Presidente Mazzuca, ci consegna dei dati, dei dati economici che vale la pena valutare per la nostra regione e come al solito quando si parla di sviluppo e di economia in questa nostra terra ci sono le luci e ci sono le ombre. Chiaramente questo summit che c'è stato in Confindustria, questa riflessione, ci ha detto che la Calabria è in lieve crescita, seppur a macchia di leopardo e tuttavia questa lieve crescita non compensa il bariotro aperto dalla crisi che si è andato ad innestare in una situazione economica già abbastanza stressata, compromessa che è quella del Sud. In più ci dice che si muove qualcosa anche sul piano dell'espansione delle imprese femminili, in Calabria le imprese femminili si attestano circa in 38 mila circa, mentre in Italia le donne che fanno azienda, le donne che diventano imprenditrici sono destinate a crescere molto di più. Tuttavia nonostante questi timidi segnali a quale si aggiunge anche un buon numero di start up, perché significa che ci sono elementi di creatività imprenditoriale in crescita in questa nostra regione, per il resto fotografa una situazione che ci consegna una regione in grande sofferenza. A questo punto però, proprio partendo da questi segnali positivi che sono la lieve crescita aziendale, questa lieve crescita nel campo dell'imprenditoria femminile e questa crescita nel campo delle start up, quindi significa che c'è gente che è creativa, a questo punto da questi segnali, da questi timidi segnali che bisogna partire per innescare un virtuoso processo di sviluppo e su queste branche legate poi al turismo, all'agricoltura e ai servizi e su queste branche che bisogna sostenere un processo virtuoso ed innovativo di sostegno all'espansione e allo sviluppo, messaggio che vale per la regione e messaggio che vale per il governo che ci auguriamo non finisca nel solito oblio e poi ce ne riaccordiamo, ogni volta che discutiamo di dati di anno in anno.